State calmi! Ditemi solo cosa volete! È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Tenete giù la testa! Oh mio Dio! Non accideteci! State tutti bene? Sì. Bene. Felice Halloween! Creiamo un po' d'atmosfera. Capito, non so! Grazie a tutti. Dove hanno portato Delaney? Ecco Delaney. Mi state portando. Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. La festa è finita lì. E forse la festa continua. Il nome... Dr. Morgan Michaels. Grazie. No! 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 Grazie a tutti. 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 Cosa gli ha fatto, Martin? Mi spiace, non avevo alternative. Steve! Mi serve aiuto. Hanno segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco.